Luca Sisto, direttore di Confitarma, quali sono le maggiori preoccupazioni dei vostri associati anche in questa situazione, le iniziative che mettete in campo a fianco appunto delle realtà che rappresentate? È un periodo difficile, lo è stato e probabilmente lo sarà ancora. Con grande senso di responsabilità, Confitarma ha innanzitutto cercato di rappresentare le stanze armatoriali all'interno del grande Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove la componente mare non era stata ascoltata. In zona Cesarini ce l'abbiamo fatta, abbiamo cominciato un percorso di attenzione verso l'armamento, abbiamo ottenuto delle misure importanti per il primo registro, per i traghetti e per la ripartenza delle crociere. C'è ancora tanto da fare, la norma parla di iniziali stanziamenti, siamo sicuri che il Governo, ma anche il Parlamento, abbia centrato il vero problema. L'anello più importante della filiera logistica, paradossalmente, è quello che non si vede, è la nave. Dopo parte tutto il resto, ma se non si fossero avuti servizi marittimi regolari, sebbene con difficoltà, non avremmo le mascherine che indossiamo, non avremmo i farmaci che ci salvano la vita, non avremmo i beni essenziali in questo periodo così difficile di pandemia. Grazie per la visione!